Spazio alla natura, all'ecologia, ma anche a spettacolo, musica e grandi temi di attualità come quello degli incendi e dei terremoti. Tutto dentro un unico cartellone di eventi, quello di festa ambiente, che inaugura la sua 29esima edizione il prossimo 4 agosto a rispescio nel Parco della Maremma. Attesi per l'evento promosso dalle gambianti, i ministri galletti del Rio, Martini ed Orlando, un'occasione per rimettere al centro l'ambiente dell'economia civile e circolare, tema di questa edizione della manifestazione. Ci saremo intanto con le due agenzie fondamentali dell'ambiente, ARPAT e il Consorzio LAMMA, che devo dire su temi fondamentali come la balneazione da un lato, ma anche i cambiamenti climatici con quello che comportano a livello di rischio idraulico, di siccità, tutti i temi che conosciamo bene, proprio anche in questa estate 2017, saranno presenti e credo offriranno tanti spunti di riflessione. Nel corso della manifestazione, che si chiuderà il prossimo 15 agosto, un currico calendario di concerti e spettacoli con Edoardo Bennato, Flavin Sinna, Vinicio Caposela e ancora Stefano Bollani e Sabina Guzzanti non mancheranno poi gli eventi sportivi, con la presenza dell'ex campione di ciclismo Paolo Bettini. Infine spazi dedicati ai ragazzi e bambini e un'isola per le amanti del cibo vegetariane rigorosamente a chilometro zero.